di nuovo qua in diretta, questa volta volevo proporre iniziale la rubrica cinema e spettacolo proponendo un bellissimo film che io guardo molto molto spesso, essendo appassionato di mare, essendo appassionato di navigazione e in linea generale di barche e di motori, propongo un video, come primo video della rubrica cinema, propongo il film Master of Commander, sfida ai confini del mare, questa è la copertina, ho il dvd da tantissimo tempo ormai, lo guardo praticamente penso che sia più o meno consumato questo dvd e l'ho guardato tantissime, veramente tantissime volte, questo dvd nello specifico ha anche due, infatti non è presente, ok no si è presente, è presente in due cd con i contenuti anche extra e all'interno poi c'è anche un foglietto dove sono illustrate magari delle caratteristiche che sono state esposte durante le riprese, ci sono bellissime immagini, comunque a parte il dvd volevo parlare del film, il film Master of Commander è praticamente una leggenda del settore, se volete capire che aria si respira, che cosa si prova a stare in un veliero o stare in generale nella navigazione in una barca, non potete che non guardare Master of Commander, un film con Russell Clough e il regista, se non sbaglio è Peter Wey, si è diretto da Peter Wey, è basato su un libro di Patrick O'Brien e in sostanza il nostro Russell Clough che è in questo caso il comandante di una nave viene improvvisamente attaccato da una nave rivale, ora non sto troppo nel dettaglio perché sennò sarebbero tantissimi spoiler ma vi dico proprio le mie impressioni prima e dopo aver visto le svariate volte che l'ho visto questo film sono che ti dà proprio un senso di, come detto prima, di ispirare aria di mare ma poi anche ti dà un senso proprio di realisticità e un senso realistico nella vita che si vivrebbe e Russell Clough in questo caso impersonifica il capitano di questa nave che si trova a combattere con una nave superiore rispetto alla sua sia di stazza sia di portanza e sia di forza propulsiva della nave e vengono improvvisamente attaccati, premetto che siamo nel periodo tra la guerra della colonizzazione sia inglese che francese e la guerra tra Inghilterra e Francia si vive nei mari, nei mari americani, nei mari indiani, insomma in giro per il mondo e racconta un po' questo. Questa nave francese si scontra con quella di Russell Clough che in questo caso fa il capitano della nave inglese e se le danno ogni volta di santa ragione e ogni volta Russell Clough in qualche modo ne esce sconfitto. Comunque ci saranno grandissimi sviluppi e la cosa che mi è piaciuta di più a parte la fotografia, a parte la regia, a parte la sceneggiatura che è veramente incredibile a parte Russell Clough che in questo film è veramente un bravissimo, proprio incredibile, un attore formidabile in questo film. Mi è piaciuta anche la cura dei dettagli delle navi, delle ricostruzioni delle navi, degli abiti e delle spade, delle pistole che ci sarebbero state in quell'epoca, insomma. Concludo questo video dicendo che assolutamente guardatevi Master of Commander, un film che assolutamente penso che non vi deluderà, non l'ha mai deluso, a tempi comunque abbastanza lunghi diciamo, non è sicuro, è un po' un film di azione però diciamo che l'azione è importante ma ci sono tante cose che succedono all'interno del film che non lo rendono per esempio vicino a un film Marvel dove essenzialmente i film Marvel non hanno tantissima trama e sono essenzialmente azione, botte, esplosioni e cose di questo tipo. Invece Master of Commander è un film anche molto visivo, molto interessante anche a livello di trama. L'ultima cosa che volevo raccontare per far capire che comunque è un film anche di sostanza c'è una persona, un ufficiale all'interno della storia di Master of Commander, all'interno della nave che essendo la nave comunque un diciamo all'interno della nave ci sono delle gerarchie anche abbastanza rigide e quindi c'è il capitano e poi ci sono tutti i sottoposti arrivando ufficiali, arrivando diciamo ai gradi come mozzo o come altri personaggi che stanno all'interno della nave e che lavorano e vivono all'interno della nave. Ci sarà un personaggio che impersonifica un ufficiale che avrà dei problemi comunque con una persona nello specifico del personale ma poi successivamente con vari componenti del personale e si troverà a suo malgrado a prendere delle scelte anche molto negative. Io adesso non sto a entrare troppo nel dettaglio di queste scelte però a me quella scena e quelle scene ogni volta mi danno da riflettere e mi fanno capire che molte volte in questi contesti dove si sta tutti insieme e in questi contesti dove c'è una certa gerarchia non sempre le cose vanno come devono andare e non sempre tutte le persone sono portate a fare tantissimi lavori. Quindi se la rubrica è piaciuta magari commentate e fatemi sapere comunque cosa ne pensate di questo film nei prossimi video che fanno parte della rubrica dedicata comunque cinema, spettacolo e intrattenimento in generale parlerò molto più in mente del film Il Grande Le Boschi. Poi piano piano parlerò dei film che mi hanno colpito che mi sono piaciuti tantissimo. Magari tratterò anche qualche video specifico dove parlerò magari di qualche regista, di qualche attore che amo e che potreste trovare molto interessante nelle loro varie spaccettature. Vi saluto e vi auguro una buona giornata.